Bentornati a tutti in un nuovo video di Collector Plaza. Come molti di voi sapranno si è appena concluso il torneo mondiale Pokémon sia di carte che ovviamente di videogioco. Io sono appena tornato e ho deciso di fare un video acquisti perché devo dire che mi sono dato da fare. Adesso vediamo tutto, togliamo il Pikachu peluche esclusivo dell'evento che non ci sta nell'inquadratura ma diciamo che è l'unico gadget che ho comprato al Pokémon Center. Per il resto tutto ciò che vedete qua è materiale che arriva da altri giocatori, collezionisti, quindi molti scambi tra privati. Non c'erano negozi ovviamente per non fare concorrenza appunto al Pokémon Center e per cui c'era un mercato nero incredibile tra privati. Ottimo. E in realtà Pokémon Center mi spiace non esserci poi ripassato a comprare qualcos'altro ma tanto già quando sono arrivato io molte cose particolari erano andate esaurite. Oppure altre cose belle tipo figure o comunque cose così erano più ingombranti da portare in valigia quindi ho evitato. Comunque io direi di iniziare subito perché le cose sono tante. Iniziando da questo blocco qua di carte sfuse poi vediamo le gradate e le sigillate. Quelle che sono nei top loader in realtà non è che siano più rare o più belle delle altre. Semplicemente all'inizio le metterò nei top loader poi le ho finiti e niente quindi sono rimaste solo nelle sleeve. Facciamo solo un po' di spazio qua e iniziamo subito. L'ho diviso più o meno per lingue perché stavolta mi sono appunto sbizzarrito tra le varie lingue. Iniziamo con le italiane e poi ne vedrete delle belle. Allora questo qua l'ho trovata da un francese mi pare che ce l'aveva lì per caso. Nell'album l'ho messo insieme a un Pikachu che vedremo dopo. Ha una pieghetta in qualche angolo non mi ricordo bene. Comunque mi faceva strano trovarla tra le sue carte e l'ho presa. Ma ce l'ho già quindi questa sarei in benità. Tra l'altro la maggior parte di quello che vedremo è per la mia collezione. Come faccio di solito in queste occasioni compro carte per me. Se c'è qualcosa in benita ve lo dico. Tra cui appunto questi due Umbreon che ho già. E finiranno su ebay. Ma probabilmente sono anche già inserzionati perché ne avevo già altri. Invece questo di alga gold che ho preso in scambio il primo giorno. E per la mia collezione delle gold non ve l'ho ancora mai fatta vedere. Ma adesso sono a buon punto e ho preso anche già palchia. Non so che altro ci sia di recenti da prendere. Comunque niente questa è solo da aggiungere alle varie gold italiane. Poi passiamo alla roba internazionale con questa tops. Non me ne intendo delle tops se non di quelle uscite in Italia. Che sono solo tre set praticamente. Due della prima serie e uno della seconda se non sbaglio. Non so se ci sono stati altri set. Comunque in America poi hanno fatto altre serie tra cui questa qua. E niente l'ho presa. Costava poco però appunto ha una pieghetta qua. Giusto come extra. E l'unica che non sia TCG ovviamente di quello che vedremo. Poi questa qua probabilmente finirà in vendita perché ne ho già una. Però senza fretta. Questa qua molto contento di averla trovata perché era la versione Cosmo Olo che arrivava da una confezione speciale e mi mancava. Arriva dal set Legenda di Treasur. Però in realtà nel set c'era la versione Olo con le linette orizzontali. C'era la Olo Regular. Questa qua era una sorta di promo con olografia alternativa. Poi sono riuscito a prendere in scambio giusto questi due Charider che comunque mi servivano di Pokémon GO. Uno Reverse e uno Olo. Il Reverse tra l'altro devo prenderlo anche italiano. Poi abbiamo quattro... Cioè tre carte diciamo Fuzzle, Promo, On The Ball. Che tra queste mancano Grookey e Pikachu. Pikachu ce l'avevo già. E i Grookey mi sa che lo recupererò online perché ci ho pensato troppo e il venditore ne aveva solo una. Sono ripassato e non c'era neanche più quella. Però ne manca solo una e tra l'altro diciamo che è una cifra abbastanza irrisoria. Si recupera facilmente. Queste due qua promozionali le ho prese da due ragazzi italiani. E le aggiungo al set Tesoro dei Draghi. Suppongo ci sia anche il Bagon che devo recuperare. Però intanto mettiamo se due qua. Sono Promo di Torneo ovviamente. Tutte quelle con questo simbolino qua. E quindi la terza poi vado a vedere di prenderla. Poi abbiamo un bel Rayquaza Pop Series. Però versione olografica. Perché nei pacchetti Pop sono tutte sempre non-olo. Ma hanno fatto alcuni blister promozionali in cui praticamente c'è la versione olografica. Non me l'aspettavo l'ho presa perché era messa molto bene e quasi sicuramente mi mancava. Poi cosa che non mi mancava e però questa carta mi piace davvero tanto. Quindi niente un ragazzo ne aveva un po' le ho presi tutti. Io non ho lasciato uno in realtà. E niente sto diventando accumulatore su alcune carte in particolare. Tipo anche quella dell'altro minuto là sopra. Poi un tapulele con cui finalmente chiudo il set Celebrations in inglese. Così ho finito inglese e italiano. E adesso tocca finire il giapponese. Poi abbiamo due Shadowless. Che si aggiungono al set diciamo in costruzione. Che ho iniziato già da un po' e di cui in realtà ho poca roba. Però non sono perfette ma erano una cifra invitante per cui le ho subito prese. Si aggiunge alla collezione anche questo Celebi Alternative Full Art promo bellissimo. Che era uscito all'inizio solo in giapponese insieme a Sandakonda. Poi l'hanno messo nel set di Colpofusione. L'avevo già preso in italiano però mi piace molto e l'abbiamo aggiunto anche la giapponese. Questo Lugia preso per gola perché sapete che mi piacciono i Lugia. Ce l'avevo già però era messo molto bene a un prezzo interessante e l'ho preso. Stessa cosa per questa bella coppia Team Hydro e Team Magma di Kyogre e Grodon ovviamente. Che arrivano dal set CP1 se non sbaglio, primo set Concept Pack. Sarebbero praticamente dei set speciali giapponesi che hanno fatto nel periodo del blocco XY. E queste due erano le carte principali di quel set. Si chiama in inglese Double Crisis però in italiano non è uscito. Sempre dei set Concept Pack. Questo mi pare fosse il 3. Ho recuperato un bel po' di carte perché purtroppo ne avevo pochissime. In realtà solo forse due che erano Mew e Charizard. Ops, ho spoilerato. Tanto ormai il Pikachu l'avete visto. Comunque qua praticamente c'è la maggior parte di questo set che è tutto glitterato così e da noi è uscito mi pare in Legendary Treasure. Si, 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 sono quasi sicuro. Invece in Giappone era un set a sé speciale. Tutte glitterate così molto kawaii come piace ai giapponesi. Ci sono ovviamente sia diciamo quelle che sarebbero delle comuni tipo questo Snivy sia quelle che sarebbero dell'Eolo. Quindi cambia un po' il bordo e poi avete visto le X. Alcuni hanno tipo Piplap le bolle, Pikachu, la sua testa iconica. Sono un po' così. Comunque un set secondo me molto carino che purtroppo all'epoca non avevo preso per cui ho recuperato adesso. Poi magari vado a controllare, ce le ho ma mi sembra proprio di no. Quindi ho preso una per. In questo caso da un giapponese. Poi questo Pikachu molto ignorante lo volevo già da un bel po' e finalmente l'ho preso di persona. Diciamo con i personaggi del programma TV che fanno in Giappone. Sono contento e lo aggiungiamo alla collezione. Così come questo Pikachu di cui in realtà non mi ricordavo neanche. Però ero certo di non avercelo per cui ho preso anche questo. Un paio di Charizard Trainer Gallery ma che avevo già comprato a una fiera. L'avevo pagato anche molto di più tra l'altro. Ma pazienza e tra poco tra l'altro quel Charizard esce anche in italiano nel nuovo set Lost Origin che uscirà a settembre. Poi un bel Charizard di Pokémon GO in giapponese. Questo qua appunto dritto in collezione. Devo prendere inglese e italiano. Qua appunto mi pare tre Charizard di Starbirth. E ci sarebbero ancora il V-Star Rainbow e l'Alternative da recuperare. Questi qua di fatto sono i più economici. Però almeno ho iniziato. Questo qua che dovrei già avercelo. Fa parte dei set Diamante Perla. Forse già Platino comunque di quel blocco lì. Non è chissà che però neanche male. Cambia rispetto all'occidentale per il tipo di olografia che come vedete qua è tutta glitterata. Mentre quello occidentale ovviamente è solo Olo nella figura. Oppure c'è anche la versione reversa. E mi pare che però ci sia solo poi in inglese. In italiano mi pare sia un set di quelli che non l'hanno fatto. Quindi forse Supreme Victors se non ricordo male. Poi invece sempre del blocco Platino. Ma in questo caso si chiama Storm Front. L'hanno fatto anche in italiano come fronte di Tempesta. C'è il trio di ristampe diciamo del set base. Che molti non se le ricordano queste qua. Perché in quel periodo non collezionava quasi nessuno. Però appunto il solito Charizard set base. Anche le pre-evoluzioni le avevano già ristampate in quel periodo lì. Anche qua stesso discorso. In giapponese sono tutte glitterate così. Che sembrano quasi false. Mentre quelle occidentali sono olografiche. Solo nella figura. Non so. Forse preferisco le occidentali in questo caso. Queste sono fin troppo pacchiane. Cioè già appunto come vedete. L'hanno fatte molto più plasticose. Rispetto agli artwork originali. In più tutte glitterate così. Non è che mi facciano impazzire. Però comunque andavano prese. E quelle lì probabilmente saranno in vendita. Perché ce le ho già. Ma piccola cosa. Ci ritorno solo un attimo. Appunto. Nei vecchi set giapponesi. C'era la prima edizione. L'unlimited. Vedete. Queste prime due sono prima edizione. Il Charmander è unlimited. Quindi. Ho detto le prendo. Sono messe bene. Poi vedo. Se ho già quella versione o no. Se no ho pazienza. Poi. Qua passiamo già alle lingue strane. Con questo Charmander. Che in realtà mi hanno regalato. Sempre promo di Pokemon Go. In portoghese. Adesso capirete perché. Ci sono varie carte in portoghese. Tra cui. Questo bel Charizard. Di generazioni. Tra l'altro. Prima ho detto che. Di quelle là. CP3. Avevo. Avevo Charizard e Mew. In realtà no. C'era solo Mew. Perché Charizard. Ho sbagliato. L'hanno fatto in generazioni. In quest'altro set. Sempre un po'. Su quello stesso stile. Tutto glitterato. In particolare. E. Questo Lugia. In realtà. Non sapevo neanche esistesse. Vedete. Che qua c'è una stampa. IC 2019. Praticamente. Questa e altre tre carte. Almeno. Io ne ho viste quattro in tutto. Ma magari sono anche di più. Hanno preso la carta. Originale. L'hanno stampato sopra. Questa cosa qua. Per un torneo. Fatto. Non so dove. Forse in Brasile. Perché l'ho comprato da un brasiliano. Ma non. Non ci giuggererei. Sinceramente. Perché non lo so. Ne so poco. Però appunto. Quello lì. Va nella collezione. Dei Lugia. Un po' sullo stile. Di quel Charizard. Che avevano fatto. Di Tionfo dei Draghi. Su cui sopra. Avevano stampato. Collector. Per. Qualche torneo. Evento. Che c'era stato. Di qualche negozio. Non lo so. Però diciamo. Non sono stampe ufficiali. Ovviamente. Questo qui. È uno stampino. Che gli hanno aggiunto sopra. Tornando appunto. Alle lingue strane. Abbiamo. Il Mewtwo. Incapsulato. In spagnolo. In portoghese. Perché ormai. Ho deciso. Di collezionarlo. In tutte le lingue. Tanto. Ce l'ho già. Giapponese. Italiano. Inglese. Per cui. Almeno. Ah no. Non è vero. Ce l'ho anche. Mi pare. Indonesiano. E tailandese. Se l'hanno fatto. Dei dubbi. Non lo so. Devo vedere. Comunque. A sto punto. Cerchiamo. Tutte le lingue. Stessa cosa. Stesso progetto. In realtà. Per le varie. Shining. Di Shining. Che. Lì. Sono sicuro. Di avercele. Thailandese. Indonesiane. Coreane. Giapponesi. Italiane. Inglesi. E si aggiungono. Le portoghesi. Che in teoria. Sono solo. 8. Cioè manca. Lo. Che in inglese. Uscito. Nell'elite box. Se. M'han detto. La cosa giusta. Non c'è. Poi magari. Scopro. Che in realtà. C'è anche. Lo. Portoghese. Ma. Nel caso. Lo recuperiamo. Comunque. Sono molto contento. Anche di questo settino qua. Che si va ad aggiungere. Agli altri. Sempre rimanendo in lingua portoghese. Un Charizard di Gran Festa. Che ho preso. Che mi piaceva. Che aveva quest'olografia. Diversa. Dal nostro. Un po' fake. Però. Ci sta. E poi. Qua andiamo su. Un pezzo forte. Che praticamente. Sarebbe la promo. Che davano i mondiali. Infatti. Vedete. All'ambientazione. Diciamo. In stile. Londinese. Ed è la promo. Che ogni anno. Danno. Ai mondiali. Si chiamano. Da un po' di anni. A questa parte. Champions Festival. Le stampano. In tutte le lingue. E intanto. Vabbè. Vi faccio vedere. Questo pacchettino qua. In cui. Qua dentro. Ci sono. Mi pare. Undici lingue. Tutte quelle che stampano. In pratica. Quindi. Inglese. Italiano. Giapponese. Adesso anche. Tailandese. Cinese. Ci sono. Una per. L'immagine. Sempre la stessa. Ovviamente. Cambiano. Tutte. Le scritte. C'è anche la scritta staff. Che la danno appunto. A arbitri. E altri. Che ne so. Dello staff. Ci sono. Anche poi. Anche. In base. Diciamo. I piazzamenti. Quindi. Topo 8. Finalist. Cioè. Ci sono. Con tante scritte. Sono andate a cercare. Degli anni passati. Le trovate. In varie versioni. Comunque. Io sono contento. Di aver fatto. Diciamo. Questo. Settino. Proprio in onore. Di questo. Di questo. Torneo. Mondiale. Che è il primo. Tra l'altro. A cui partecipo. Per cui. Ci tenevo. A prenderle. Poi. Charizard Full Art. Che era l'ultimo. Che mi serviva. In inglese. Di astri lucenti. Come si chiama. Brilliant Stars. Mi pare. In inglese. Ah. Tra l'altro. Questa era. La sleeve. Appunto. Sempre. Dedicata. Al mondiale. Io l'ho lasciata qua. Perché mi sembra. Attinente. Poi. Proprio. Novità. Di questo periodo. Lo special delivery. Charizard. Che era stato già annunciato. Una vita fa. E finalmente. Uscito. Non so se in tutto il mondo. Ma. In Inghilterra. Grazie al loro. Pokemon Center. Online. Ce l'hanno già. E quindi. Ne ho prese. Un paio di copie. In realtà. La vediamo poi dopo. Una terza. Sigillata. E. Queste due. Lo ho aperte. Perché il sigillo. Non era messo. Cioè. Era un po'. Stropicciato. Un po' brutto. E poi tanto. Ne volevo tenere. Uno nei top loader. Uno magari da gradare. Poi vedremo. Direi di passare appunto. Alle carte sigillate. Con. Due Arceus. Promozionali. Che davano insieme a. Pokemon. Legend Arceus. Ovviamente. Però invece. In italiano. E' uscita la confezione speciale. Alla fine. Quindi non è rimasta. Un'esclusiva giapponese. Presi due. Perché. Boh. E' capitato così. Ma. Me ne basta uno. Quindi uno. Probabilmente. Sarà in vendita. Stessa cosa. Per questo Pikachu. Per concludere lo scambio. Come. Cifre. Alla fine. Ne ho presi due. Ma anche qua. Me ne bastava uno. Non ho detto Pikachu. Ma in realtà. E' Picchu. Uscito anche questo qua. Da poco. In Giappone. Come esclusiva. Per adesso. Non si sa se. Magari. Passerà. Di stamparlo. Anche in italiano. Ma non credo. Secondo me. Rimarrà esclusiva. Giapponese. Mentre. Quest'altro Pikachu. In. Francese. Lo davano con il film. Chelle Gautier. Uscito ormai. Qualche anno fa. L'ho preso. Perché l'ha sigillato. E perché. Ce l'ho già italiano. E spagnolo. Così a caso. E gli aggiungiamo. Il francese. A volte. In queste occasioni. Compero carte. Che non mi servono. In lingue strane. Se non costano troppo. Ovvio. Non sto a spendere cifre esagerate. In lingue che non colleziono. Più come sfizi. Diciamo. Questo qua appunto. È l'altro Charizard Special Delivery. Sigillato. Che penso terrò così. Qua dentro. È. Praticamente. Il nuovo set. McDonald. Che danno. Con gli Happy Meal. In Inghilterra. Ci sono già adesso. Da noi. Penso arriveranno. Boh. Verso. Autunno. Fine anno. Non lo so. Questo lo tengo chiuso. Il set. Lo farò. Quasi sicuramente. In italiano. Per cui. Lo tengo. Sigillato. Magari. Lo apro. Tengo solo il pacchettino. Non lo so. Poi vediamo. E concludiamo. Con due belle PSA. Di cui sono molto contento. Perché una. Già la volevo da un po'. L'altra. L'avrei presa. In realtà. Anche. Non gradata. Ma. Tanto meglio così. Iniziamo. Ecco. Era questa qua. Che. Appunto. Avrei. Accettato benissimo. Anche. Non gradata. Ma. Di prezzo. Più o meno. Era uguale. Quindi. L'ho presa. PSA 9. Sono molto contento. A sto punto. Bisogna poi prendere. Lo special delivery. Bidoof. Che non so neanche bene. Quanto costi. Però. Va recuperato. E questo è stato proprio. L'ultimo acquisto. Che ho fatto. Prima di scappar via. Ho speso gli ultimi soldi. Che mi ero portato. Per un bel. Charizard. Demfaits. PSA 9. In inglese. Questo qui c'è. Solo giapponese. Se qualcuno di voi ce l'ha in italiano. Ovviamente. Non gradato. Va più che bene. Perché sia messo bene. Mi serve. Per cui. Contattatemi tramite. Pagina Facebook. O Instagram. E tra l'altro. Se seguite. Su questi social. Collector Plaza. Che trovate i link. In descrizione. Vedete. Prima. Alcuni spoiler. Tra cui. Alcune di queste carte. Tipo di questa. Avevo già messo la foto. L'altro giorno. E. Non vi perdete. Tutte. Le novità. Del negozio. Come. Già detto. Nel precedente video. A breve. Ci sarà. Un flash sale. Sulla pagina Facebook. Per cui. Non perdetevelo. Vi ringrazio. Per la visione. Al prossimo video.